ciao a tutti ragazzi e ragazze no 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 non va bene ragazzi non va bene proprio per niente non ci siamo allora vi dico cosa non va bene ciao a tutti ragazzi e ragazze no non va bene ragazzi e ragazze fan page ci hanno stufato direi di dare un nome a tutto ciò chiamandoli con un nome che nessuno ha mai avuto o meglio ciao a tutti occhi d'argento spero che questo nuovo nome vi piace scrivetelo su nei commenti vi lascio un piccolo sondaggio se volete questo nome o se volete cambiarlo perciò ragazzi io non ho fatto questo video per pubblicizzare diciamo questo nome per dirvi questo nome no ma ho fatto questo video per ho detto dire per annunciarvi il mio nuovo secondo canale super ho un secondo 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 canale dove diciamo faccio un po' cose diverse da questo canale nel senso faccio cose virtuali se vogliamo metterla così e se volete subito andarlo a cercare mi chiamo solo m games perché non sarebbe cioè perché non saprebbe come si scrive games si scrive g a mess g a mess tanto per dire però comunque ragazzi andate a vedere a iscrivervi attivare la campanellina e condividere il video lasciate il pollice in in su iscrivervi al canale e ragazzi mi raccomando vi voglio in tantissimi ma proprio tutti compreso te che stai guardando questo video perciò ragazzi direi di iscrivervi al canale charlotte m punto poi anche su charlotte m punto game o se vogliamo metterla proprio precisamente charlotte m games e ragazzi li faccio video di minecraft gta 5 cioè nel senso ora ho fatto due o tre episodi di minecraft poi non so poterò gta 5 di sims 4 emigmi 71 o se no clash royale crash of friends ma tantissimi giochi non so fortnite posso anche portare fortnite che ora in questo momento sta veramente andando di moda devo dire che voglio provarlo sono curiosa perché tutti lo stanno facendo e voglio vedere un po' come in classe anche lo faranno tutti insomma voglio vedere però ragazzi condividete questo video perché tutti lo devono sapere compreso te perciò iscrivetevi lasciate le pollicioni in su iscrivetevi su instagram anche mi chiamo charlotte m punto 29 e poi iscrivetevi su musicali che mi chiamo charlotte e basta perciò direi che è arrivato il momento di salutarci perciò iscrivetevi lasciate i pollicioni in su condividete attivate la campanellina e ciao occhi d'argento ciao ciao